Stefano Colantuono, altra tappa d'avvicinamento alle partite della stagione Coppa Italia e poi ovviamente campionato e contro il Chievo Verona si è giocato contro una diretta concorrente nella prossima stagione l'Atalanta si è imposta 3-0, soddisfatto? Sì, soddisfatto della buona prestazione contro una squadra che farà lo stesso tipo di campionato che dovremo fare noi va bene, lo considero sempre una tappa d'avvicinamento alle partite ufficiali tenete presente che l'anno scorso col Chievo abbiamo perso quindi non c'eravamo sfasciati la testa e adesso sicuramente non ci esaltiamo per questa bella vittoria anche se fa molto piacere perché poi andare a preparare una settimana che sarà quella di Coppa Italia con una buona prestazione è sicuramente più facile Colantuono fa ruotare tutti i suoi giocatori nel primo tempo una formazione nel secondo ovviamente spazio ad altri giocatori e insomma si fanno teste, si fanno prove, si hanno riscontri soprattutto Sì, la cosa più importante sono i riscontri è chiaro che io faccio ruotare i giocatori perché alcuni li conosco come le mie tasche altri invece li sto scoprendo e sto facendo e quindi li faccio giocare, voglio vedere, sono curioso molto dei giovani dell'impatto con una nuova realtà, con un nuovo campionato quindi però stanno rispondendo bene al di là dei carichi di lavoro stanno facendo veramente un buon lavoro e sono molto contento l'importante è che non pensino che oggi abbiamo già risolto tutto e sia finito il campionato il campionato deve ancora cominciare, dobbiamo ancora entrare nel clou e avremo momenti difficili che dovremmo essere bravi a superare Anche se pensano c'è Colantuono che poi... Sì, no, ma io sono pagato per questo loro possono stare tranquilli che io sarò lì Grazie a tutti Grazie.